E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Fortnite con le ranked su 0 build Che in questo caso quando uscirà il video non saranno più disponibili Ma nel tempo in cui ho provato le ranked erano disponibili in modalità 0 build Detto ciò vi lascio subito al video Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un grande like Mi raccomando per supportare Commentate Vi lascio al video Basta Riccardo Dove scendiamo? Qua No Sei un coglione Sei un coglione Vabbè molto diverso Sì sì è diverso Siamo in un altro punto Oh guarda ci sono già dei nemici La sbriga fiori La sbriga fiori Eh dio Sta soccorso figlio Corri corre forest Corri Te ne stai già andando dall'isola? No Ah ok Questo qua fa già i forti Ma Ma non ci Dove sono questi? Ma po Figa Riccardo Veramente sei un Mi sta sparando Mi stanno sparando Vieni giù Vieni giù da lì porco Niente Niente Figa Riccardo Ci siamo giocati una partita Ci siamo giocati una partita Ci siamo giocati una partita Il tuo porco Dio di fortuna Possiamo fare una partita seria Perlomeno Qualcuno ha chiamato Pisseria d'Egitto Pisseria Grande Beramede d'Egitto Sì imbecillo ho chiamato Dove andiamo? Dove andiamo io? Oh Eh buttati Soga Ma c'è un aeroplano qua C'è già gente Ma cazzo me ne frega Io vado via con l'aeroplano Lo sai che dovremmo provare una roba con la TNT Con l'esplosivo E il cespuglio Vero? Io prendo l'esplosivo Ti mando addosso al cespuglio L'esplosivo Tu vai addosso a qualcuno E l'esplosivo esplode Guarda mi offo volontario Lo faccio io volentieri Sono un Di genio Filantropo E playboy E' il genio miliardario Il playboy Filantropo Comunque In ordine giusto C'è uno? Ho notato Beh è stato facile Ancora più facile Penso E Chi è? Beh è stato facile Quante munizioni Quante munizioni Dai ne vuoi un po' Bambino Dai bambino Su Oh del loot Con delle munizioni Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni 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 Sto arrivando Vieni muoviti Muoviti Corri 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 Quel giorno Non so proprio perché Decisi di andare a correre un po' Oh merda oh merda Muoviti 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 Sì No Cos'è sta cosa? Tu la vedi Riccardo? Cosa? Questa Sì la vedo Quella lì? Eh che cos'è? E' l'ologramma del denteplano Facciamo Helicopter Helicopter A ovest Spari Dove è sparito l'aeroplano? Destinazione mare Destinazione mare Eccolo 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 qua Qui sotto Qui sotto eh Dove cazzo vai? Occhio Sono due col Sì Lo vedo Lo vedo Il problema è che non so dove siano Dai puoi ammazzarli Riccardo Ammazzalo Ammazzalo Che gli manca poco Ammazzalo Ti prego Prenditi sto cigno Oh Ce n'è ancora uno? No L'altro l'ha ammazzato Bene Questo è un altro Porca vacca 3 2 1 Ok Via C'è C'è L'aeroplano Che è l'unico mezzo Di Aspetta Abbiamo Abbiamo Rift Eh Aspetta Mi sto curando Go 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 Dove sarebbe Il rift? Io ce l'ho Ok Andiamo dentro La safe No C'è uno Là Sta scappando Noi entriamo In questo palazzone Anche perché Dovrebbe attraverla Mongolfiera Infatti Stiamo qua Va Così prendiamo Il loot Anche della mongola No Così fatto No Ho attivato Il secondo Rift Che avevo Porca Di con tutte cose Si Stavolta È colpa Mia Speriamo Di non aver bisogno Di fare Fuga Però E A few Moments Later L'ho Visti La Solista Niente Come faccio Col P Ciotto È uno È quello Da solo Questo E Invece Cazzo Era bianco Water croccante Ricoperto Da cioccolato Bianco Quello L'ho Che era Da solo Dai Vai Di nuovo Sul tetto Non perderlo Di vista Che magari È già È già volato Via Mi sa E Ma deve Entrare Eccolo Qua In questa zona E Cazzo Via No 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 Quella sarebbe la coppia Secondo me Non lo so Mi ha solo sparato Di cecchino Quello là Ce l'aveva il cecchino Ce l'ho Io E Roccio Che c'è la coppia Qua vicino È bianco 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 Bo Dietro No Che palle Oh però Sono stati bravi Con la minigun Ciao Sono stati bravi Ma cazzo Ma cazzo Secondi Bronzo Secondo Argento Argentuno E anche per questo video Oggi è tutto Ringrazio L'editor Riccardo Fatemi sapere Che cosa ne pensate anche voi Se è ditato bene Oppure no Insomma Fatemelo sapere Per questa puntata Di Fortnite è tutto Magari in futuro Vedremo se fare Altri video del genere Detto ciò Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao